buongiorno a tutti e bentornati a una nuova edizione del telegiornale di green news oggi insieme ai nostri inviati andremo a parlare di alcune problematiche del nostro pianeta ma iniziamo subito con il nostro primo inviato leo a te la linea hallo qui aus deutschland werde ich über saunregen spreche die autosachen hierfür sind der verbrauch fossila brennstoffe der betrieb von industrie anlagen und rente die von diesen erzeugten substanzen wenn sie mit wasser oder wasserdampf in der atmosphäre in kontakt kommen bilden säuren die beim kontakt mit dem boden den ph wert senken ihn saurer und damit weniger furchtbar machen dies geschieht auch in flüssen und sehen und kann zum tod der dort lebenden tiere führen und kann auch auf wenige materialen ästen wirken und so das künstlerische erbe beschädigen in den 1980er wurde deutschland von zauroregen schwer getroffen und die konsequenzen sind heute noch sichtbar aus diesem grund hat das land schritte unternommen um die emissionen zu begrenzen grazie leo ora ci spostiamo in australia con la nostra seconda inviata gaia i am going to talk about ozone depletion this phenomenon is a hole in the ozone layer which is created by the rising levels of chlorine and boronine in the atmosphere this is really dangerous for the human body because the layer of ozone that there is in the atmosphere is the only one that protects us from the dangerous ways and the hole in it can make is get diseases like skin cancer here in australia there is one which has been here since nineteen sixty and it took place because of all the pollution in the world and the wildfires that took place in twenty nineteen and earlier may worsen the space that this hole takes up over the australian continent australia with the rest of the world has decided to use less ozone depleting substances like chlorofluorocarbons and hydrochlorofluorocarbons by doing this it is predicted that the ozone hole will disappear by twenty thirty back to you ricardo grazie gaia adesso ci spostiamo in bulgaria dove lìa ci parlerà della raccolta differenziata grazie cao tutti cialia da 17нулicino jaütarici v бывает in Turkey grazie per la o per il gruppo, non per il riecipitamento e per il riecipitamento di imparare. In qu'è modo da pomoglio con la natura? Se tutti i nostri si la nostra natura con la strada, con la strada, in questo modo, e posso farlo in Bulgaria a stare una più buona. Non dovremmo anche la natura perché abbiamo un'ottima прирoda e non dovremmo anche la planinità il muretto sono molto buoni strani, molto buona parte in Bulgaria e molto spero che vi faccio il posto grazie Lia per il nostro prossimo ultimo servizio andremo in Sud America con Veronica Veronica, a te la linea Buongiorno, siamo in Sud America il aree sta cubierta principalmente per sabanze, pastizze, pantani e bambù la deforestazione sta disminuendo però seguimos perdendo 4,6 milioni di hectare per bosque il WWF fu una delle prime organizzazioni ambientali a rilevar il dramma della deforestazione del Amazonas il Gran Chaco è il secondo bosque più grande di America del Sur dopo l'Amazonas in questi ultimi anni ha sido vittima di una delle deforestazioni più rapidi della storia protettere l'Amazonia e tutti i boschi del pianeta deve essere l'obiettivo di tutti le conseguenze della deforestazione è il effetto invernadero meno biodiversità variazioni climatiche regionali e rischi idrogeologici del territorio le cause della deforestazione è in cambio sull'espansione agricola e ganadera la linea parati grazie ai nostri inviati e grazie a tutti per averci seguito noi ci vediamo domani con una nuova edizione di Green News a presto e buona giornata grazie a tutti